Come hai detto che ti chiami? Taj Baralandabad, il vostro nuovo tutor. Taj Baralandabad, bello scioglilingua. Taj Baralandabad, cominciò lo spettacolo. Baralandabad, con il suo bulldog Balzac. Non vedo perché punire tutta la house se la colpa è esclusivamente del signor Badabadabarabba per avere... Baralandabad. Grazie. Punto e partita il signor Badabara. Bad, bad, bibibu. Baralandabad! Avete una salvietta umidificata? Congratulazioni, giovanotto. Tante congratulazioni. Signore e signori. Vi annuncio i trionfatori di quest'anno. I Toten Bulls. Vincitori dell'edizione annuale della Coppa di Asti. Sì, la Coppa! Fermi, fermi! Fermi, un momento! Fermi, fermi!